E così scoprì la vera storia di Ramsete XIII, pugnalato al cuore da un nemico. Solo il sangue di una ragazza dal cuore fragile avrebbe potuto risvegliare il faraone. Questa mummia non è come le altre. Il suo cuore custodisce il segreto dell'immortalità. Come ti chiami? Ramsete XIII la splendente. Faraone. Sei al cospetto di un dio. Immortale? Come un supereroe? Sei un grande potere, lo devi condividere con gli amici, no? Un vecchio matto che diceva che poteva risuscitare le mummie. Hai tempo fino alla luna piena per trovare l'anello di tua madre. Altrimenti tornerai in mummia per sempre. Quelli che si sono impossessati dalla mummia cercavano me. Il cap vuole il suo cuore. Gli dei non te lo permetteranno perché tu non sei un faraone! Per Osiride.